Buongiorno cadetti, io sono Eli Gabriel e oggi siamo qua su Rocket League per l'aggiornamento importantissimo che hanno appena rilasciato ovvero il campo da basket basket ragazzi, basket basket Oggi il 26 aprile è stato rilasciato un aggiornamento che permette di fare una partita 2 contro 2 dove al posto delle porte ci sono due canestri ragazzi c'è questo Rocket League madonna andiamo, vediamo che bella partita che riuscirò a fare benvenuti, benvenuti all'arena di Denver quest'oggi vedremo dei cabri contro altri due stronzi mamma mia parte prendi la palla, prendi anche qui si fa già canestro guardate, guardate, guardate what a T-roll, what a T-roll che schifo no, no così gliel'hai messa in mezzo aia vai amico oh, da stai oh non dov'è marronami su aaaah cioè se non alzate sta palla non è riuscito a fare un caso se ve lo dico perché se no magari uno non ci arriva e non capisce no, quasi pro 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 ragazzo così si fいました ops. ops. o komt. o mio dio, cosa ma la gente commenta sempre a caso ma sono stati zicchi e feo ops scusa amico ops ops oh bello butta dentro butta la pasta e non mi aiuta butta su butta su grande vai che cazzo ma non riuscivo a fare nulla attenzione bel rimbalzo madonna mia bello mi è piaciuto questo mi è piaciuto veramente tanto olè olè vai cazzo cattroia amico se non mi aiuti qua non posso far tutto da solo mamma mia guardate ragazzi dove va il mio compagno oh oh no vabbè che stiamo vincendo però eh l'importante ragazzi è far gol anziché nè mi piace mi piace mi piace mi piace facciamo un'altra ah ma sto giocando contro il computer vabbè riusciranno i nostri eroi a vincere un'altra partita? lo scopriremo nel prossimo video no ragazzi no questo oddio che lag cos'era tio boh ho potuto fare il tiro della vita invece no lagga vai eh di là eh capisco che è difficile sto gioco questa modalità soprattutto oh non riusciamo a mandarla su eh abbiamo appena iniziato oh bravo 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 no 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 cazzo no peccato 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 dai possiamo riprenderci fai gli due gol mettegli li la dietro grande grande palla lì bello maronno ma che culo che culo ecco che culo qua ci vuole che culo perchè non è stato solo lui ma anche una reazione quindi lui fa schifo il mio compagno fa schifo dai canestro ahhh 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 tutti suuuu tutti suuuu ok che siamo in due quindi tutti suuu lo sto facendo rivolto di auto dai micromachine nooo cos'è 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 they they no they mamma mia ma che campione Ma quanto cazzo son forte Ah Uh sul ferro Malissimo Quanto quello non gioca più Olè Olè proprio L'antenna di The Witcher 3 Wow Riparte Attenzione attenzione 2 contro 2 2 contro 0 Scusate 2 contro 0 2 contro 0 2 contro 0 Attenzione 2 contro 0 2 contro 0 Attenzione 2 contro 0 2 contro 0 Eccoli Si sono entrati Si 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 Due amici due amici Giocheranno da dio questi Ma noi gli faremo un culo Oh Cazzo Cosa sto facendo Figatemi che già il suo amico Non gioca Oh Sì Lecker savenbracken Bello Dentro Butta dentro Nooo Ma che sfiga Oh Grande salvataggio Del mio compagno Nooo Sto cazzo di ferro Madonna Mi esse da fastidio Proprio quello Il bello Di questa modalità Il ferro Che rompe il cazzo Ma che cazzo Ma levatevi Butta dentro Nooo Troppo forte Sta venendo da cacare La Sucker Tort Troppo fast E poco furious Battutona Poi Bello 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 Mamma mia Ma cos'è star Ma cos'è Guardiamola insieme Dai Tac All'indietro Classe Bravura Questa bravura Pura Balla lì Stoppatona Stoppatona Di Shaquille O'Neal Entra Palla di merda Sì Lebron James In contropiede Sì Cazzo 3 a 0 Ragazzi 3 a 0 Manca poco Manca poco Manca poco Nel drogrestro Sì 4 a 0 Eee Sexy Leide Up Up E va Vangulo Oh E' come Sto Pum E' come Sto Power Ups Unbeleva Bocco Ma stai Zitto Era troppo Easy Vai 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 Non fare Sudeto Oh No Cazzo Ma ce ne fanno 4 in 2 Secondi Guardate Guardate Giochiamocela Sta palla Giochiamocela No Se arriva con le tira No Bravo Tuna che fai schifo Bravo Bravo Tuna che nessuno tocca la palla Bravo 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 Dove è fatta il camera Attenzione Attenzione Cos'è Cos'è Grazie Grazie Io fossi in voi La proverei Giusto per Svagarmi un po' Da magari il solito Code Il solito Destiny Il solito gioco Che fate tutti i giorni Così almeno vi divertite Un altro po' Noi ci vediamo Nel prossimo video Lasciate like Commentate Condividete Rompete le righe